Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su World Warships Oggi andiamo a vedere un gameplay con la corazzata italiana Premium Roma Nave di livello 8 Allora, vediamola in tutta la sua bellezza Vediamo anche il matchmaking, mettiamo la telecamera della partita Allora, siamo capitati contro navi anche di livello 9 Alcuni incrociatori, alcuni cacciador pedinieri Siamo nella mappa estuario, modalità supremazia Quindi abbiamo 4 punti di cap da dover gestire Dopo una rapida occhiata alla posizione delle altre navi Decido di andare verso il settore di alfa Dobbiamo dire un paio di cose su questa nave La velocità della rotazione delle torrette è davvero molto buona È davvero velocissima, anzi, cosa dico? È velocissima, anche la velocità stessa della nave è davvero molto buona E aumenta con la famosa bandiera Sierra Mike Monto delle bandiere che mi aiutano sia sotto l'aspetto del combattimento Ma anche per quanto riguarda l'economia Perché, ricordo ancora una volta, essendo una nave premium Andremo a guadagnare maggiore esperienza Maggiori crediti e anche esperienza libera Allora, siamo così disposti Abbiamo esattamente, se vedo bene Una corazzata, due corazzate con me, tre Abbiamo la Belfast, abbiamo la Yugumo Una New Orleans nemica Vi ricordo, ragazzi, come sempre Prima di entrare nel vivo della partita Di lasciare un bel mi piace al video E se possibile una condivisione Per aiutare sempre di più il canale a crescere Fatta la pubblicità, subito pronti via Ed è subito magia Vediamo cosa riusciamo a fare sul settore di alfa Veniamo spottati a 13 km 13 km tramite la skill del comandante E il modulo Proviamo un colpo su una New Orleans completamente ferma Forse potevo sparare leggermente più a destra Però vediamo che la cittadella comunque sia Entra, una cittadella del tutto regalata Perché quella nave era, come detto, ferma Viene poi timbrata Da un'attenta corazzata alleata Che seguiva l'azione Quindi i nemici si trovano subito dopo Un minuto di partita Senza una nave abbastanza importante 18.360 danni Molto bene Cerchiamo di andare sulla Bismarck Bismarck molto pericolosa Sulla distanza breve Anche perché le sue secondarie Fanno molto molto male Poi dipende se quel giocatore Ha deciso di puntare Sulle armi secondarie Io personalmente con le corazzate tedesche Punto molto sulle secondarie Sulla Roma Devo ancora trovare una Diciamo Una dimensione adatta Devo ancora capire bene il comandante Come mi piace Quindi sto facendo varie prove Lo cambio e lo ricambio Per il momento come detto Abbiamo una diminuzione Della rilevazione Sull'acqua Quindi veniamo spottati Come potete bene leggere A 13 km Che sono davvero pochi Considerando che siamo sempre Una corazzata Di livello 8 Qui c'erano due giocate da fare Rimanere dietro l'isolotto Come sta facendo la nostra corazzata E comunque sia Continuare a sparare In tutta tranquillità Perché nessuno Ci può spottare O scegliere La Diciamo L'avanzata In questo caso Scelgo di avanzare Anche perché Vediamo che abbiamo Una Belfast Già sul settore di alfa Abbiamo la corazzata Giapponese Abbiamo l'incrociatore Di livello 9 Premium Sovietico Insomma Abbiamo una buona presenza Di navi In più Abbiamo l'incrociatore Per il momento Sembrerebbe A FK In C4 E ancora Perché non è finita qui L'altra corazzata Dietro Quindi abbiamo Una flotta Davvero importante Sul settore di alfa Per cercare In qualche modo Di sfondare Questo lato Della mappa E sì Perché alla fine Vi ricordo Che la partita Si divide sempre In diverse Mini partite Dove ognuno Fa la sua parte In questa circostanza Dobbiamo cercare Di gestire Il settore Di alfa Sul settore D Le cose Sembrerebbero Andare bene Abbiamo il settore Conquistato Però non riusciamo A sfondare In maniera Adeguata C'è qualcuno Che ci spara Tra l'altro Da dietro L'isolotto Più o meno Sul settore Di G4 G5 È sicuramente Un incrociatore Eccolo Li vedi Con le sue HE Molto Molto Fastidiose 3.180 Sulla corazzata Americana Tra l'altro Sarebbe La B Perché Praticamente Con il Black Friday Che c'è stato Ci sono state O ci sono Tuttora Delle offerte Molto Molto Vantaggioso Ovviamente Se siete interessati Date un'occhiata E Prendete Le vostre decisioni Proviamo ancora Con le AP Vediamo se riusciamo In qualche modo A penetrare La corazzata Americana Sempre Nave di livello 8 3600 Lo possiamo Accettare Però sinceramente Avrei preferito Qualcosina in più Qui Mi accorgo Mi accorgo Che La corazzata Che avanzava La Belfast L'incrociatore Sovietico Sono completamente Tornati indietro Sui loro passi Quindi mi ritrovo Da solo Ad affrontare Una Bismarck Una corazzata Francese Dietro l'isolotto E una corazzata Americana Anch'essa Dietro l'isolotto E' una situazione Difficile Perché alla fine Abbiamo anche L'incrociatore Sulla sinistra Da non Da tenere D'occhio Infatti qui Penso Ormai sono dentro Alpha Avanzo ancora Leggermente In modo tale Che l'isolotto In F3 Mi dà copertura Per i colpi Dell'incrociatore In questa circostanza Continuano Ad arrivare Però almeno La copertura Un pochino La stavo cercando Facciamo Una virata secca A destra Non ho Il modulo Che mi garantisce Maggiore velocità Nel senso Che è il modulo Che mi fa arrivare Prima Ecco Alla velocità Massima Ho il modulo Per quanto riguarda Lo spegnimento Dei vari incendi A bordo Della mia nave Come detto E' ancora in fase Di studio Quindi Magari In futuro Andrò a cambiare Anche il modulo Andiamo ad assorbire Come possiamo Il colpo Della corazzata Americana 13.000 Fanno male Però farebbero Ancora più male I colpi Della Bismarck Che finalmente Entrano in range Quel giocatore Penso che non abbia Le skill Al massimo Comunque sia Non abbia messo Sulle armi secondarie Proviamo a sparare Nel lato Vediamo Se in qualche modo Diciamo la nostra 17.000 Lo possiamo accettare Nessuno Tra l'altro Guardate Una Due Tre Quattro Cinque Navi Sulla destra E la Bismarck Ancora A 5.000 Punti Che Che continua A navigare Come se nulla fosse In poche parole Nessuno Mi sta dando Una mano Una corazzata Poteva Semplicemente Prevedere L'avanzata Della Bismarck E appunto Avanzare Sulla colonna 1 Però così Non è stato Non fa niente Abbiamo portato A casa La kill Sulla Bismarck Siamo saliti A 79.000 Danni 34 colpi D'arma secondaria Le armi secondarie Se ricordo bene Con Tutto al massimo Vado a memoria Arrivano A 7.6 Ripeto ragazzi Vado sempre A memoria Quindi qualche dato Potrebbe essere Inesatto Proviamo finalmente A sparare anche noi All'incrociatore Che ci ha dato fastidio Per praticamente Tutta la partita Il settore di alfa Ragazzi Qui Un errore Abbastanza grave E possiamo Anzi dobbiamo Spingere Sul settore di alfa Perché i nemici Come vedete Sul settore di Stanno mandando indietro La nostra flotta Quindi hanno sfondato Il settore di Mentre noi su alfa Stiamo perdendo tempo Sappiamo che Ci hanno I nemici Un incrociatore Lo abbiamo appena visto La corazzata Sulla destra In H2 Eccola E poi non c'è più nessuno Quindi cosa stiamo aspettando Ovviamente È un'avanzata Che da solo Non posso fare Soprattutto con 27.000 punti Avessi avuto I 65.000 pieni Sarei anche avanzato Da solo Però qui mi serve Una mano Tra l'altro Arriva una corazzata Nemica Sulla Sulla riga G Che in qualche modo Va a rafforzare L'offensiva Per l'appunto Dei nemici 83.000 danni Andiamo a subire Un incendio Decido di non tenerlo Perché i punti vita Iniziano ad essere Un po' pochi Una nave Tra l'altro Che Spesso e volentieri Ragazzi Viene penetrata Soprattutto Contro Le navi Di livello 9 Voi direte Devi Vabbè È una nave Di livello superiore Però ragazzi Vi assicuro Che Non so Contro una Musashi Facciamo un esempio Con quel calibro Di cannone La Roma Purtroppo Viene penetrata Abbastanza facilmente Alle volte Regala Dei colpi Che non penetrano Però insomma Grosso modo È una nave Con cui bisogna Giocare particolarmente Con attenzione Fatta questa parentesi Aperta e chiusa Abbiamo preso L'Achille Sull'incrociatore 852 A 493 Se vi ricordate All'inizio Avevamo Tutti i punti di cap Quindi anche Questa cosa qui È molto positiva Perché siamo 864 A 500 Continuiamo Ad avanzare Qui cerco Un tiro Sulla corazzata francese Tiro che Non arriverà mai Perché alla fine La corazzata francese Sta pensando Alla corazzata A pochi centimetri Appunto Dalla Dalla nave Cerchiamo invece Di avanzare Su Charlie La Neptune Va a timbrare La Belfast Vediamo cosa succede Lì Scontro Vediamo No Sono curioso Vediamo dalla minimappa Se capiamo Cosa sta succedendo 846 568 Abbiamo L'incrociatore Di livello 9 Teresco Davanti a noi Che purtroppo Fa una virata Molto buona Perché Vira a destra E quindi Non mi consente Di avere un tiro Pulito Vediamo un attimo Abbiamo fatto Due kill In rapida successione Come squadra Arrivano i siduri Attenzione L'incrociatore Teresco Quanto vira Vira troppo Sulla destra Infatti Quei siduri Uno E poi Due Niente Colpo devastante Solo un graffio Porta a casa Tutto la Yugumo 950 460 Vediamo se c'è tempo Ancora per un piccolo Colpo Una partita Durata Poco Però Molto piena Di emozioni Quella avanzata In solitaria Sicuramente Poteva E' stata Emozionante E secondo me Poteva essere Ancora più emozionante Qualora avessi Combattuto Contro la Corazzata Francese Andiamo a mancare La Neptune Qui veramente Si poteva fare Anche il colpo Devastante Per assurdo Però in realtà Lui Sta indietreggiando Insomma Il tiro E' andato Dove è andato Vediamo se portiamo A casa la kill Sulla Duke Ragazzi A questo punto Risultati Posto scontro Ragazzi Video terminato Grazie per l'attenzione Noi come sempre Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao